La tua storia ci ha particolarmente colpito e ti ringraziamo per esserti dimostrato disponibile a fare questa intervista con noi. Vorremmo ripercorrere la tua carriera fin dagli esordi e dalla tua infanzia in Germania. Com'è stato crescere a Berlino? Crescere in una metropoli come Berlino negli anni 90 è stato un po' come crescere a Londra, nel quartiere di Tottenham. Molta disoccupazione e molta criminalità. Però ero bambino e molte delle cose che vi dico le ho realizzate più avanti nel corso della mia vita. In più, nessuno è esente da difficoltà nella vita. A me è toccato crescere in una zona difficile di Berlino. Ma ho sempre avuto la famiglia, gli amici e gli affetti dalla mia parte. E questo mi è stato di grande aiuto nel rimanere lontano dalla strada e dalle sue dinamiche. Adesso che sei un professionista affermato, cosa conservi della tua infanzia tedesca? Conservo un grande affetto per la Germania che mi ha cresciuto, dove ho potuto realizzare i miei sogni e dove tuttora gioco. Con il senno di poi sono molto contento di essere diventato un calciatore professionista e un modello sportivo positivo. Ogni volta che dico o scrivo qualcosa penso ai bambini piccoli di Berlino o del Ghana, che mi guardano come esempio. La mia missione è questa, dimostrare loro che è possibile raggiungere i propri obiettivi, anche venendo da un contesto difficile. Hai sempre voluto diventare un calciatore professionista? Non proprio. Quando si è giovani non si pensa troppo a quello che si vuole diventare. Volevo soltanto giocare a calcio perché mi divertivo molto. Ho iniziato a sognare di diventare un calciatore professionista intorno ai 16 anni. Qual è stata la figura determinante nella tua crescita? Il calcio è sempre stato presente nella mia famiglia. Mio padre, mio fratello maggiore, i miei fratelli minori e perfino mia madre giocavano a calcio. I miei zii erano stati calciatori e noi siamo cresciuti con la palla tra i piedi. Però penso che la figura determinante per le mie scelte sia stato il mio fratello più grande, George, che ha sempre incoraggiato sia me che Jerome, con forza, a volte anche troppa, visto che lui non ce l'aveva fatta diventare calciatore, pur essendo un gran talento. Crescere in quell'ambiente mi ha aiutato a diventare un calciatore professionista. Ormai sei un cittadino del mondo, sei un sacco di lingue. Dopo aver lasciato la Germania hai giocato in tanti club diversi. Raccontaci un po' la tua esperienza. Parlo correttamente cinque lingue, inglese, tedesco, italiano, turco, ganese e capisco arabo e francese. Molto per qualcuno che viene visto come un animale da stadio, ma io non sono mica un animale. E spesso la gente non realizza quanto ci si debba mettere in gioco per affrontare le nostre sfide professionali. Uno stadio, in fondo, è un posto particolare. La gente si aspetta che tu dia l'anima per vincere. È da impazzire e alla fine ti senti come un gladiatore, ma spesso non riservano la stessa attenzione a capire chi sei veramente. Per molti sei solo un giocatore, come se alla fine non fossimo uomini comuni, ma qualcosa in più. Allo stadio però succedono anche cose disdicevoli. In particolare, noi come classe abbiamo analizzato il razzismo, che sfocia incori e altri insulti verso i giocatori. Anche tu ne sei stato vittima. Cosa ci puoi raccontare della tua esperienza? Per prima cosa, rivolgo un appello a tutti voi. Non fate come me. Se in campo siete vittime di razzismo, parlatene all'allenatore, al direttore di gara, ai vostri genitori. Non tenetevelo dentro. Quando adesso affronto questo tema, tutti hanno in mente la posizione che ho preso nei confronti negli ultimi attacchi ricevuti. Ma per molto, troppo tempo, ho taciuto alle offese. Ripensandoci, ho capito che sarebbe stato meglio reagire, come ho fatto nel caso di Pro Patria Milan a Bustarsizio. Quella partita amichevole ha segnato una svolta nel tuo atteggiamento verso le discriminazioni. Come ricordi quanto è successo? Quel giorno, dopo minuti interminabili di offese e cori, ho scagliato il pallone in tribuna. Mi sono rifiutato di continuare. L'ho fatto anche per gli altri miei compagni di squadra di colore. Perché reputavano inaccettabile che si potesse continuare facendo finta di niente. Mi rendo conto, oggi forse più che in quel momento, che fu un gesto di grande effetto. Ma poi non mi pento assolutamente di averlo fatto. Quale fu la reazione dei tuoi compagni di squadra e della società? Sono da subito stato molto contento perché tutti i miei compagni di squadra hanno smesso di giocare e siamo usciti dal campo tutti insieme. È stato un bel segnale per me e per i tifosi. Inoltre, la società mi ha subito dimostrato vicinanza e affetto e già dalla settimana successiva siamo scesi in campo con delle maglie che ho scritto AC Milan contro razzismo. Quel sostegno è stato molto importante per me e mi ha dato coraggio. Grazie a quella campagna e alla grande attenzione mediatica ricevuta ho avuto il privilegio di poter presentare all'Assemblea Nazionale delle Nazioni Unite un discorso contro il razzismo. Ti aspettavi che quel paglione scagliato contro la tifoseria Bussarsizio arrivasse così lontano fino al discorso fatto all'ONU? In quel momento ero convinto che fosse la cosa giusta, tutto qui. Non mi aspettavo che il mio gesto avesse questa risonanza. Io ho fatto semplicemente quello che mi sentivo di fare, poi però resto convinto che siano gli arbitri e i dirigenti a dover prendere l'iniziativa e non solo i giocatori. Noi abbiamo letto il tuo discorso in cui citi Obama e Ali e paragoni il razzismo alla malaria. Come hai maturato quelle riflessioni? Come per troppo tempo ho fatto, forse per paura di rimanere isolato. Ho ignorato il razzismo e la discriminazione razziale ma non solo. Purtroppo ignorarlo è facile, invece bisogna combatterlo e condannarlo e soprattutto prevenirlo. Prosciugare gli stagni in cui si annida. Agire e prevenire devono essere le cose più importanti. Ci sono stati momenti nella mia vita in cui non volevo neanche affrontare il problema. Ho cercato di ignorare il razzismo, come si fa con un mal di testa, sperando che prima o poi vada via da solo, semplicemente aspettando. Ma quella era un'illusione. Parlando a lungo con gli amici e con la mia famiglia, ho realizzato che il razzismo è una vera e propria malattia. E come tale va affrontata e curata. Penso che la malaria e il razzismo abbiano molto in comune. Gli stadi di calcio, come tanti altri luoghi, sono pieni di giovani. Dentro allo stadio si trova di tutto. Dalla famiglia al ragazzetto di quartiere, dal ricco al povero. Tutti condividono la passione, ma qualcuno porta allo stadio le sue frustrazioni e la sua ignoranza. Se non prosciughiamo gli stagni dove si annida la malattia, tanti di loro che oggi sono sani potrebbero prendere una delle malattie più pericolose dei giorni nostri. Abbiamo molto apprezzato il passaggio dove dichiari che il concetto di un po' razzista non esiste. Raccontaci meglio cosa intendevi. Sono convinto che non esistano quantità tollerabili di razzismo. Il razzismo è assolutamente inaccettabile e insostenibile, indipendentemente dal luogo o dalla forma in cui si manifesta. Il razzismo, inoltre, va ben al di là del colore della pelle. Oggi si discriminano le persone per la loro religione, per le loro scelte sessuali, per la povertà e a volte anche per l'età o per la debolezza. Basti pensare al bullismo. Ci sono molti tipi di razzismo e bisogna essere pronti a riconoscerli. Il grande problema con il razzismo è che non esiste un vaccino per combatterlo. Non ci sono antibiotici da prendere. C'è solo il nostro impegno e la nostra costante attenzione nell'eliminare questo atteggiamento disumano dalla società. E la mia presa di posizione, penso, è importante quanto il lavoro che avete svolto quest'anno a scuola.